Tagliamo un pacchetto di carte di Istanbul Guys Perfetto, procediamo subito a tagliare quest'altro pacchetto Ovviamente con le forbici a punta rotondata E l'abbiamo diviso precisamente a metà Ovviamente noi andiamo a vedere la parte di sotto delle carte Apriamo bene i resti del pacchetto Ed eccole qua, le carte tutte tagliate Spero di non aver tagliato davvero una speciale Come prima carta abbiamo il vichingo Subito dopo abbiamo l'angelo della battaglia Poi abbiamo l'orso messicano, anche questo tagliato E come benultima carta abbiamo trovato l'arena natalizia Ma prima di andare a vedere se abbiamo tagliato una speciale o una leggendaria Lascia like e iscriviti al canale Perfetto, andiamo subito a controllare Non ci credo ragazzi, ho tagliato il Sensei Firefist Ho tagliato un'altra speciale Non ci posso credere Dimmi nei commenti tu cos'hai trovato nei tuoi pacchetti